Buongiorno a tutti e benvenuti al saluto del lunedì dalla nostra solo affitticare da Angelo Cavideri Addis, il vostro mister affitti Brianza. Come tutelarsi negli affitti? Questo è l'argomento che andremo a trattare domani direttamente nella rubrica affittare con sicurezza con l'avvocato Alessandra Coduti. In questo episodio andremo a parlare proprio di questa argomentazione e in merito a questo infatti volevo chiedere a tutti i proprietari qual è il sistema di tutela che preferiscono per tutelarsi negli affitti e volevo chiedere agli inquilini se questi sistemi per loro sono sufficientemente chiari e soprattutto se sono anche da loro condivisi. Di tutto questo parleremo anche domani appunto nella rubrica affittare con sicurezza ma nel frattempo scrivete pure i vostri commenti in funzione di questo argomento perché per noi è decisamente importante. Detto questo ricordatevi sempre la diretta live solo affitti che si terrà mercoledì perché andremo direttamente a parlare in diretta con voi dall'info point di solo affitti all'interno di Desio dal vivo l'evento del mercoledì sera e in quell'occasione sto preparando qualcosa di speciale volevo presentarvi poi tutti i componenti dello staff o quelli che saranno presenti durante la serata e parlare direttamente con loro quindi un'occasione unica per poter avere un confronto diretto tra noi e voi direttamente sui nostri social. Io per il momento vi ringrazio e vi saluto ci vediamo in tutti gli appuntamenti di questa settimana così come vi avevo spiegato precedentemente e ci rivediamo poi venerdì con il diario del venerdì. Ciao a tutti!